In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile. Stasera al Pavesi serve la partita perfetta. Setti immacolati, combattuti e vinti, teste lucidi e cuori pulsanti per respingere l'assalto della corazzata modenese che scampato il pericolo e recuperati i big avrà una sola idea fissa, chiudere i conti. Immaginare Maranese in stile Al Pacino in ogni maledetta domenica è realistico. Oltre a nozioni tattiche e visionare video per correggere le sbavature di domenica dovrà toccare le corde più intime e competitive dei giocatori, creando un mix insostenibile per i modenesi. Milano per tutti, ma tutti per Milano. Il Pavesi deve essere colmo per incoraggiare i giocatori, spingendoli oltre i loro limiti, mettendo loro quelle ali utili a volare quando Carpi proverà a gettarli nel burrone dell'eliminazione. E se dovesse andare male, il tifo si trasformerà in riconoscenza per un gruppo e una società che partiti nove mesi fa hanno partorito una stagione storica. Forza itali, bisogna tornare a Carpi e c'è un solo modo vincere stasera. Buon appetito!